Si avvicinano gli esami di maturità per 1300 studenti qui in Valtellina, quali consigli per affrontarlo in modo più sereno? Un consiglio è quello che va a quelli che dovrebbero fare l'anno prossimo l'esame di maturità, perché non si studia all'ultimo momento, si studia cominciando da lontano. Per quelli invece che devono farlo quest'anno, è importante sapere due cose, una che non si va addormentati, si sta su di notte per studiare all'ultimo, meglio andare sgombri da stanchezze e lucidi, perché bisogna argomentare il più possibile la domanda che viene posta e da questa domanda non bisogna mollare subito, ma bisogna attaccarsi all'argomento successivo e cominciare a argomentare, parlare, parlare, parlare. Bisogna credere molto in quello che si fa, credere in se stessi, nelle proprie capacità, nella propria capacità argomentativa, per cui bisogna prendere la domanda, rispolverarla, prendere le cose essenziali che ci sono nella domanda e argomentarle. È una prova per la quale bisogna vincere.